Occhio ancora alla Roma, Okaka col tacco! Stefano Okaka! Di tacco! Saluta così la curva assuta e domani potrà partire per Londra! Un gol eccezionale! Di Okaka! Si saluta alla grande devo dire, l'ha lasciato, se lascia veramente questa squadra lascia a testa alta anche perché è un gol straordinario, Di tacco spalla la porta, qui Curci non ha potuto far niente.